Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet Fiorentina A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori Sembra ormai assodato che il futuro di Beppe Iachini a partire dalla prossima stagione non sarà più alla Fiorentina Il patron Viola Rocco Commisso ha deciso per il cambio e i nomi in lizza per sostituirlo sono diversi da Iurici del Verona a Emery Xiviglia passando per Kovac ex Bayern fino ad arrivare a Blanca ex PSG già accostato con insistenza nel mese di gennaio prima dell'arrivo di Beppe I rumus attorno Spalletti invece continuano a farsi insistenti ma come sottolineato dal Corriere dello Sport Stadio sembrano avere il contorno del sogno Intanto l'attuale tecnico Viola sta preparando la prossima sfida esterna di campionato contro il Parma Gli ultimi dubbi di formazione dovrebbero essere sciolti con Cutrone che riprenderà il proprio posto al centro dell'attacco dopo il gol segnato a Sassuolo e Martin Cazeres che ha scontato la squalifica rimediata dalla prima giornata dalla ripresa del Covid contro i Brescia pronta a riprendersi il proprio posto in difesa per Fiorentina1.com Lorenzo della Giovampala Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola